Se è buon Natale a cavolo cappuccio, se io dovrebbe passare un accio Natale come l'anno scorso, morto meglio il 2 novembre. L'anno scorso eramo tutti a me casa, a festeggiare il Santo Natale. Preparammo la tompola. Cattello, cattelloni, dico alla mia signora, porta le fagioli, cammela. Dice le fagioli, ce li abbiamo manciati di sera. E ora come puntamo? Con le pernacchi? Eh, non potremmo fare la tompola. Allora a me venne in testa di fare un gioco morto di società, che sarebbe il Persepio vivente. Ogni persona della famiglia intrepita così un personaggio del Persepio. Dico, bambini, e i miei nepoti, chi lo vuole fare il bambino Gesù? Io dico, ora si aggallano, si azzuffano, perché tutti vogliono fare il bambino Gesù, ma quando mai? Io dico, io voglio fare satanicchi, io voglio fare diabolichi, io voglio fare 007, non lo volevo fare il bambino Gesù. A me, l'occhio, dove mi andarono allora? Dal nonno, un nannò che ha 92 anni, ridotto un metro e trenta, vabbè, però lui si sente ancora zarzillo, perché noi altri, ogni giorno, ci tagliamo un pezzo di bastone e gli dice che sta allungando. Dico, no, no, va sia, fai il bambino Gesù. Io faccio il bambino Gesù, io faccio il riavolo a quattro, se non te le vedo al mezzo, io ti caffudo un tequen. Basta, gentilmente con la violenza, pighiamo in nannò, l'abbiamo spogliato nudo completamente, ci missemo un bello pannolino con una spilla di pubblica sicurezza e lo abbiamo catafottuto nella pila di lavare con una poco di lattuchina di radicchio nella parte della paglia. Poi, lo zio Ignazio, che è completamente analfabetico, ci fecemo fare un sciacco, l'aseno. Mio cognato Camillo, che è maretato con una raccazza di trenta anni più giovane, ci fecemo fare il vitello, no, ci attaccamo rubelle citrone antiesa, faceva il vitello, era una fotografia del vitello proprio. Il maresciallo in Parlomeni, per dovere di ospitalità, fece San Giuseppe, la mia signora dice, io faccio la Vergine Immacolata, e dopo io ci caffudai uno schiaffo, una timpolata, la mia signora, tu Vergine Immacolata, la mia signora, che figura ci faccio davanti, tutta la invetate. Basta, comunque fu come fu, però il personaggio più bello vini completamente il spaventato del Persepio, picchi, cucciera. La zia Carmelina cae sordo, muta e paralitica, sopra la setia con le rotelle. Quando la zia Carmelina vitte, innannò spogliato nudo col pannolino e la spilla di pubblica sicurezza. Usse Ignazio a quattro piedi che ragliava. Mio cognato Camillo, con i citroli attaccata in testa, meschina, fu presa tanti di quello spavento, che senza dire c'è niente completamente, senza scannaleanna, la pigliammo con tutta la soggitieda, con le rotelle, e la messimo un capo alla specchiera. Era il spaventato l'aventifico completamente. Poi ci furono. C'è parente della mia signora? E duoco finì a broccoli e alla passetta completamente. Dice, noi attre facciamo il re Manci, che portano oro, Vincenzo e birra. Però astutiamo la luce all'oscuro, perché così c'è più atmosfera. Noi altri, innocenti, va bene come le lambrette, astutiamo la luce. Appena astutiamo la luce, questi figli della vedova allegra, no, puitaro loro. Loro, su puitaro loro, chiedo della mia signora, su puitaro completamente. Chi se ne ha accorgiuto? La zia Carmelina, sordo, muta, d'incapo la specchiera, e ci venne la valora. E ci sentimmo dire, quinnuti il re! Chi ci fu? Le donne, ginocchione, che si battevano la mano sul petto a fare miracolo, miracolo. Tutti i mascoli che volevano inseguire il re. Il più forte di tutti, chi si sente? Zio Gnaccio. Zio Gnaccio fece un sarto, scoppò nel pianterottolo e vitte il re che scentevano nelle scale. Allora, critò, mi ricordo, ora li raggiungo io! E cicafulla una spallata nella porta dell'ascensione, però, per combinazione, l'ascensione non c'era, era al piano artico. Quindi, effettivo, si sentivo lo zio Gnaccio che cadeva nella giomba delle scale. Ta-ta-ra-da! Tum! Al portiere che c'è parse, stappata di bottiglia di champagne, e uscì cantando Tu scendi dalle selle, oh re del cielo, in una grotta a freddo e a cielo, oh pampino mio devino. Però un episodio di Natale, un episodio di annocenza ci è stato. Che magari quando ci penso mi viene la commorsione, completamente la commorsione. E chi è stato? Mio figlio Calluccio. Io cosa ci avrebbe detto? Calluccio, se tu vuoi che Gesù bambino ti fa il recalo, ci scrivi una letterina e ce la posi nel persepio. Beh figlio, che cosa fece? Mi viene la commorsione quando si dice l'annocenza a me. Mio figlio va nel persepio, si piglia la madonna, la mucciola, nascosi completamente. Poi ci scrisse la letterina e ci scrisse, caro Gesù bambino, se vuoi rivedere tua magia, mi devi comprare i ciao. Grazie.